... Incidente nella mattinata di giovedì 8 agosto, poco prima delle 6.30, sulla strada provinciale 565 Pede Montana, all'altezza di Quagliuzzo. Co-involto è una Mini Cooper One condotta ad un trentenne di Ivrea e una Suzuki Vitara con a bordo un 34enne di Vico Canavese. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea a Castellamonte, due ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e la polizia di stato di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione, pare che la Mini, che viaggiava in direzione Ivrea, abbia sbandato urtando il guardrail. La Vitara, che proveniva nella direzione contraria, non è riuscita ad evitarla. I due conducenti, subito soccorsi, sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea in codice giallo. Poi c'è una prima ricostruzione, è un'altra domanda, è un'altra domanda. Un'altra domanda è stata una buona, la va di Moderna, con la propria federazione delle nostre tabelle del nucleo radiomotive per produrre del nucleo radiomotive. Grazie a tutti. Grazie a tutti.